Ok, se vorreste chiedendo no, non faccio apposta portarvi in ogni blog un lago. L'Italia c'è tipo 20.000 laghi, cioè non è mica colpa mia. Comunque, ciao a tutti per un nuovo video, io sono già con 23.08 e oggi siamo in un nuovo blog, in un sentiero molto semplice. Qui sotto vi dovrebbe comprare il nome e tutto, link in descrizione più o meno quella cosa lì per trovare il posto. Fate i miei sondaggi, entrate nel mio server Discord, link in descrizione. Niente, ci vediamo qualche foto, qualche video, come al solito, e ve lo ripeto, non faccio apposta a mettere laghi. Ciao! Io volevo dire che stiamo andando al Cristo Pensante, che è una strada un po' più complicata delle altre, e magari vi metto qualche foto. Ed è esattamente, non lo vedo da qui, però è tipo là in alto, credo, da qualche parte là in alto. Adesso è dall'altro lato della montagna, di là, e non lo so. Vi metto qualche foto, ciao! Siamo arrivati sul Cristo Pensante, non so neanche se mi sentite, perché c'è un po' di vento, è altissimo, è un po' più difficile delle altre passeggiate, e alzerò un po' il volume, perché probabilmente non si sentirà molto, e vi metto magari qualche foto, e forse uscirà una collaborazione con Epic Failita, e anche forse un video di Minecraft, con... non vi spoilerò. Ciao! Allora, come potete vedere, non è del genere degli altri sentieri, è molto più difficile, però è fattibile, cioè, è del tutto fattibile, però è un po' più difficile, insomma. Adesso ci troviamo, boh, non so dove facciamo l'auto, ciao! 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 Ciao!